San Biagio si chiama come il santo protettore che domani a Malfi avrebbe festeggiato il rione che è stato travolto nella capitale della costiera amalfitana, l'antica Repubblica Marinara dalla terribile frana che poteva essere una strage se avesse coinciso proprio con i festeggiamenti. Per fortuna nessuno è rimasto travolto dal cedimento di almeno 20 metri di costone roccioso che ha cancellato la via pedonale Annunziatella ma ha anche portato via con sé un pezzo della strada statale 163, la principale arteria di collegamento della costiera amalfitana. Amalfi è isolata, paralizzata dalla grossa frana che ha reso necessario interrompere l'erogazione di qualsiasi servizio. Una quantità enorme di roccia e terra invaso la sede stradale all'altezza della galleria Matteo Camera nei pressi del ristorante La Marinella. La strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia, il danno anche ad occhio nudo appare grave e a confermarlo è stato anche il sindaco Daniele Milano. Lavrana ha portato via un pezzo di strada e ci vorranno giorni per poterla riaprire. Il sindaco ha già contattato le società che si occupano del trasporto via mare per consentire rientro a casa oggi degli studenti da Positano. Sono state predisposte imbarcazioni con il supporto della Capitaneria di Porto di Salerno. Attivati tutti i canali di emergenza, la priorità dei primi momenti è stato mettere in salvo le persone che abitano al di sopra di via Annunziatella. I vigili del fuoco che con la protezione civile coordinano e poi razioni giunti sul posto anche con l'ausilio di un elicottero. Si è provveduto in particolare al recupero delle tre famiglie rimaste bloccate nelle loro case situate proprio nei pressi del luogo della frana. Le famiglie tratte in salvo sono poi state ospitate presso una struttura alberghiera di Amalfi. Sul posto anche le squadre ANAS per le prime verifiche tecniche per avviare le operazioni di sgombero del materiale franato sulla sede stradale per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del piano viabile e naturalmente la circolazione.